Grazie Presidente. Chiaramente per esprimere il parere favorevole, quindi il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle e per ricordare che il venerdì santo non è festa nazionale o comunque festa religiosa, ma è un momento indubbiamente in cui ogni cristiano cattolico, compreso il sottoscritto, eventualmente nel privato pensa alle riflessioni che proponeva il collega De Priamo. Ma prima di tutto siamo amministratori di questa città e rispondiamo ai cittadini di Roma, poi ognuno nel privato risponde a chi vuole, quando vuole e come vuole. Questo per stabilire che se ci sono delle delibere importanti che vanno votate per questa città si votano anche di venerdì santo, di sabato e di domenica, perché siamo amministratori 365 giorni all'anno e mi auguro anche per chi ci crede dei buoni cristiani o comunque dei rispettosi del proprio credo religioso. Grazie.